Nella tarda serata di ieri, nel corso di un servizio coordinato teso al contrasto di sostanze stupefacenti, è stato arrestato, in flagranza di reato, ad Altavilla Silentina, un 56enne. L'uomo è stato sorpreso dai carabinieri e gli ordini del comandante Luca Geminale qualche ora prima all'interno della propria campagna, intento a coltivare delle grosse piante di cannabis stativa, dal peso complessivo di circa 10 kg, sottoposte al sequestro. L'arrestato è stato condotto in caserma per l'espletamento delle formalità di rito e successivamente, presso la propria abitazione, agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.